Allora, innanzitutto scusate il ritardo, avevamo anche un pochino di cose tecniche da sistemare. Entriamo nel vivo della serata di oggi e come vedete abbiamo due ospiti, uno abbastanza abituale, un amico della Fondazione Ernesto Abesso, l'altro una nuova amica della Fondazione Ernesto Abesso. Cominciamo da quello più abituale, Giulio Stolfi, potentino, magistrato contabile ma non è qui in queste vesti, è anche storico del diritto, mi ha pregato di non presentarlo troppo nel dettaglio perché vuole mantenere un alone di mistero ma è soprattutto uno straordinario organizzatore culturale e è qui in questa veste. Mi aiuterà a intervistare Ilaria Gaspari, filosofa, ha studiato filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e poi si è dottorata alla Sorbona, è anche romanziera, ha esordito nel 2015 con il suo primo romanzo L'Etica dell'Acquario, nel 2018 ha pubblicato Ragioni e Sentimenti, Anconte Philosophique sull'amore, buono per il giorno di San Valentino, e recentemente per Inaudi, lezioni di felicità, esercizi filosofici per il buon uso della vita, collabora con la Scuola Oda, la Scuola di scrittura di Torino, l'abbiamo vista anche su Rai3 recentemente, con Fiorella Mannoia, vuoi aggiungere qualcosa Ilaria? Premi, premi. Ah ecco, scusate, subito. Ma no, direi che sì, ho scritto anche un altro libro, poi Vita segreta delle emozioni, sempre per Inaudi, però mi sembrava una biografia perfetta e completa. Volevo solo dirvi che ho il raffreddore, non ho il Covid, in caso mai qualcuno si chiedesse. Mi sembrava un disclaimer importante, soprattutto per le persone delle prime figlie. Esatto, esatto, infatti non vorrei inquietare nessuno. Grazie, grazie mille dell'invito, sono davvero felicissima di essere qua, di aver scoperto questo posto un po' segreto che non conoscevo, così nel cuore di Roma, insomma, abbastanza magico anche. Quindi ringrazio tanto Giulio che mi ha invitata e sono felicissima di aver conosciuto anche Federica. Mi dispiace per Caterina che si è infortunata, ma avremo, spero, delle occasioni. Sicuramente non mancherà occasione. Entriamo nel vivo del discorso di oggi. Parlo troppo veloce? Vediamo se Cristian ci può mandare le slide. Questa è semplicemente la copertina del libro che presentiamo stasera. e per noi è anche un'occasione, oltre che per incontrare l'aria, per parlare di Ingeborg Bachmann, poetessa non conosciuta quanto meriterebbe, soprattutto a Roma, Roma che è stata la sua città di elezione, Roma che non la ricorda abbastanza. Ci sembrava importante parlare di lei anche perché ricorrono i 50 anni della sua morte. Condividiamo un anniversario perché noi festeggiamo quest'anno i 100 anni dalla nostra nascita che coincidono con i 50 anni dalla morte di Ingeborg. Giulio voleva aprire parlandoci di lei. Vi mostro la sua immagine perché peraltro è una donna di straordinario fascino. Giulio voleva spiegarci perché volevamo parlarvi di lei, perché ci è sembrato importante fare una serata su di lei. Buonasera a tutti. Grazie della pazienza con cui la Fondazione Ernesta Abesso continua a sopportarmi, nella persona della sua Presidente e della Consigliera Federica Boldrini. Io sono qui principalmente nella veste di quello che ha chiamato materialmente l'aria, ma naturalmente l'ospitalità è tutta merito della Fondazione. Diciamo che mi dovete dare un attimo di badinage aneddotico, se me lo consentite, perché io sono qui fondamentalmente per colpa di un piragna. La prima, l'esordio letterario di Ilaria, che è una figura per me particolarmente interessante perché sta sul crinale di due discipline che certe volte si guardano in cagnesco, cioè la letteratura e la filosofia. L'esordio di Ilaria non è stato un esordio tecnico, accademico, è stato un esordio letterario perché la sua prima pubblicazione è un bellissimo romanzo che si chiama L'etica dell'acquario, che a me piacque molto perché riesce con una grazia abbastanza rara di questi tempi a mescolare la freschezza della prima scrittura con uno sguardo molto elegante e maturo. Ecco, quindi non è uno di quelle decine e decine di esordi che vengono buttati nel mercato editoriale oggi, ma è veramente uno di quei... è il primo passo che apre la carriera di un grande letterato, come già possiamo dire che ormai sia Ilaria Gaspari. Però c'è un lato più, diciamo così, meno aulico di tutto questo, nel senso che il romanzo si chiama L'etica dell'acquario perché fra i suoi protagonisti non umani c'è una specie di vasca con dei pesci rossi che sta al collegio timpano della scuola normale superiore a Pisa, ma conosciuto ormai dal vasto pubblico perché ci sta una delle protagoniste della trilogia di Elena Ferrante, però prima di Elena Ferrante ne aveva scritto modestamente Ilaria Gaspari. Ora, in questa vasca con i pesci rossi, dice l'autrice, facendo una bella metafora con quella che è la mentalità collegiale che in realtà sorregge un po' l'architettura del libro, il problema è dato dal fatto che questi pesci si comportano in modo strano e la leggenda dice che si comportino in modo strano perché qualche d'uno, evidentemente un personaggio gravemente disturbato, aveva messo in un certo momento della storia un piragna nella vasca dei pesci rossi. E quindi questa storia, palesemente inventata, si rincorreva fra le generazioni dei collegiali ed è arrivata poi alla letteratura con Ilaria Gaspari. Però io vi posso testimoniare che il piragna ce l'hanno messo davvero perché quello che ce l'ha messo è qui stasera fra noi e quel signore con il pizzetto. Quindi tutto questo giro di conoscenze molto romano, anche se nessuno di noi è romano, in realtà ci porta dal piragna nella vasca dei pesci rossi fino a Ingeborg Bachmann. E quindi dobbiamo ringraziare anche il piragna per questo tipo di giro di cose e persone. Ora, io naturalmente non posso avere la pretesa di parlare di Ingeborg Bachmann perché penso che sono su questo un po' vetero-veterista, nel senso che penso che se ne dovrebbero occupare gli specialisti che forse in Italia se ne occupano un po' cursoriamente rispetto all'importanza di questa figura. Però cerco di dire una cosa che a me personalmente ha colpito di Ingeborg Bachmann, cioè una lettura che trovo particolarmente interessante di questa scrittrice apparentemente così tesa allo scavo della propria anima, della propria individualità e che in realtà però finisce per dire delle cose di grandissima rilevanza per una dimensione del collettivo, diciamo così per una raffigurazione, per un'autorappresentazione del Novecento che qualcuno ha scritto specificamente femminile non lo so, forse perché piace pensare che questo tipo di sguardo sia proprio delle donne io non lo so, però diciamo sicuramente proprio di alcune donne e in questa sua capacità di dire il collettivo e l'universale guardando e parlando dell'anima, dell'individuale io trovo che sia particolarmente feconda per un tempo come quello odierno che non possiede più quei grandi scatoloni rigidi che chiamavamo ideologie dove tutti ci potevamo andare a ficcare dentro e trovare già pronta una nostra rappresentazione della realtà quindi io credo che Ingeborg Bachman sia tremendamente attuale per noi che cerchiamo faticosamente di rintessere una trama che ci consenta di avere uno sguardo un po' ordinato sul mondo però detto questo vorrei soprattutto che a parlare di Ingeborg Bachman e del suo libro fosse Ilaria e quindi comincio subito questa nostra conversazione chiedendo una cosa molto semplice cioè è vero tu Ilaria nel libro dedichi dei preziosi ricami al fatto che la casualità un po' come quella del Piragna che poi ci ha portato all'Ernest Abesso sia qualche cosa in realtà che può essere straordinariamente fecondo e portare dei significati che forse aspettavamo di accendere in un certo senso dei circuiti che aspettavamo di aprire nella nostra esperienza però io te lo devo chiedere lo stesso cioè perché tu che sei una normalista che hai fatto diciamo un po' un cammino quasi come i Longobardi nel senso che sei nata a Milano poi hai studiato a Pisa e adesso ti sei fermata a Roma se vuoi venire più a mezzogiorno nel Regno di Napoli diciamo qualche riferimento topografico te lo possiamo dare volentieri però penso che a Roma ci stai benissimo quindi tu che quindi hai questo tipo di percorso logistico e come percorso intellettuale sei soprattutto una studiosa raffinata di una certa cultura francese possiamo dirlo tu sei una voce limpida su Proust hai studiato e scritto su Montaigne insomma questo tipo di esperienza qua è peraltro declinata tutta al latino la Francia, l'Italia eccetera perché Ingeborg Bachmann e perché Ingeborg Bachmann che è vissuta ed è morta tragicamente come sappiamo a Roma nella sua fase berlinese che potrebbe sembrare quasi una cosa secondaria rispetto alla biografia della scrittrice forse perché Berlino come Ingeborg Bachmann è un'icona del Novecento allora grazie intanto grazie per questa presentazione sicuramente troppo lusinghiera sono molto contenta appunto oggi di avere finalmente nel pubblico un personaggio mitico perché la storia dei Piragna io davvero pensavo fosse una leggenda metropolitana invece appunto mi confermi che era tutto reale 30.000 lire quindi sfuma davvero nella leggenda questa cosa quindi se un giorno bisognerà fare delle note o un'edizione critica del mio primo libro dobbiamo no allora a parte gli scherzi è vero che in questa scelta di raccontare Ingeborg Bachmann e Berlino per questo libro che è uscito l'anno scorso nella primavera scorsa per Giulio Perrone questo editore romano che cura una collana che si intitola Passaggi di Dogana non so se vi è capitato di trovare qualche libro insomma si trovano spesso ben esposti in libreria perché sono una tipologia di libro abbastanza affascinante nel senso che sono delle piccole guide a varie città a varie capitali soprattutto ma non necessariamente europee o comunque del mondo ogni guida però è una guida letteraria nel senso che appunto si tratta del ritratto di una città in cui a fare diciamo da Cicerone in questo percorso è un personaggio più o meno celebre che in quella città ha vissuto quindi in realtà è vero che io penso che raccontare Berlino per me è stata una sfida abbastanza significativa perché è una città che io ho conosciuto prima nei racconti di chi c'era stato negli anni nel decennio diciamo successivo alla caduta del muro quando però io ero una bambina e non avevo l'età per andare a Berlino e per me rappresentava un po' come per molti penso della mia della nostra generazione rappresentava un luogo di libertà un luogo in cui tutto era possibile mi è capitato negli anni di avere un sacco di amiche di amici cui fratelli e sorelle maggiori erano andati a Berlino a cercare e trovare qualche volta fortuna in ambito artistico per esempio e tutti dicevano che era la città dove andare quando ci sono potuta andare io quando ero ventenne quindi eravamo già negli anni 2000 avanzati ho trovato la sensazione appunto di una città in cui la storia aveva lasciato delle cicatrici importanti in un modo un po' diverso da quello che siamo abituati a vedere in Italia noi siamo abituati in effetti a convivere con la storia con il passato beh anche il fatto di essere qua oggi un po' ce lo ce lo racconta ma abbiamo veramente un'abitudine forte io quando avevo 16 anni avevo fatto uno scambio culturale ed ero stata a vivere per tre mesi in Australia e mi ricordo beh naturalmente anche lì c'è una storia che non è la storia conservata dei monumenti naturalmente però mi ricordo che la mia padrona di casa la ragazza che mi ospitava era una volta mi diceva questa cosa è antichissima è una cosa veramente tanto tanto antica e io pensavo che si riferisse a un edificio duecentesco ma ovviamente in Australia era impossibile si riferiva a un edificio ottocentesco che per lei era il massimo dell'antichità è chiaro che noi siamo abituati invece a una convivenza molto più intensa col passato a Berlino questa cosa prende una forma un po' particolare nel senso che è come se il passato fosse presente in forma di cicatrice questa era una sensazione che ho avuto dalla prima volta che ci sono stata e quando si è trattato appunto di insomma mi hanno chiamata dalla casa editrice Perrone per chiedermi di scrivere un volumetto per questa collana io che inizialmente ovviamente ho proposto di occuparmi di Parigi perché è una città dove ho abitato per diversi anni ho fatto il dottorato a Parigi quindi sono stata per quattro anni abbondanti ed è una città che mi è rimasta nel cuore una città che ho conosciuto molto bene come puoi conoscere una città quando ci studi e hai quindi anche quella libertà di girare di conoscere di girare per le biblioteche di esplorare proprio la città ecco Parigi era già presa quindi non potevo affrontare Parigi molto banalmente l'avevano affidata a un altro scrittore Nicola Ravera che fra l'altro ha scritto un bellissimo libro su Parigi ma quindi io non potevo occuparmi di Parigi quindi mi ha detto hai una seconda opzione e dico Berlino perché Berlino era una città che mi sembrava abbastanza una sfida voler raccontare ma in particolare la cosa che mi ha assistito come coincidenza fortunata era il fatto che io da molti anni volevo scrivere qualcosa su Ingeborg Bachman una figura estremamente fascinosa non so quanto nota non so appunto quanto poi si abbia dimestichezza con lei il nome certo è abbastanza conosciuto insomma almeno fra le persone che amano la lettura che amano i libri però per esempio moltissimi dei suoi libri moltissime sue raccolti di poesia sono fuori commercio in Italia ora io spero molto nel cinquantenario però per procurarmi tutti i suoi libri insomma ho dovuto fare qualche piccolo salto mortale ora adesso penso che sarà portata a una nuova popolarità perché quest'anno sono i 50 anni della sua morte uscirà un film che non vedo l'ora di vedere di Margarete Fontrotta dedicato proprio a lei io nel mio piccolo sto collaborando con il Goethe Institute di Roma e con il forum austriaco per lavorare a un podcast su Bachman che è un lavoro insomma che mi sta molto a cuore e come dire è una figura anche molto interessante perché sono ancora vive molte persone che l'hanno conosciuta recentemente ho intervistato Ginevra Bompiani che è stata sua amica negli anni romani insomma c'è ancora una fortissima aura intorno a questa figura però è considerata spesso appunto una scrittrice inaccessibile difficile ecco io proprio per questo avevo voglia di di provare a scrivere qualcosa su di lei anche perché mi era successa leggendola una cosa che a volte succede con certi autori cioè di sentire una fortissima affinità personale una fortissima simpatia probabilmente dovuta alla maniera così intensa che lei ha di trasporre se stessa anche sfidando dolori ferite tutto quello che può far male insomma nei suoi scritti con una grande semplicità però e un senso dell'umorismo molto sottile ma anche sempre presente ecco questa cosa mi affascinava come persona e come scrittrice e quindi insomma desideravo da tempo scrivere qualcosa su di lei il problema era che dovevo mettere insieme Berlino e Bachman e non sapevo concretamente quanto e se lei avesse vissuto a Berlino e qua la coincidenza mi ha assistita perché appunto subito avuta questa idea mi sono messa a cercare insomma sono partita da una bellissima biografia scritta da Hans Höller che è stato un suo grande biografo che si intitola la foglia dell'assoluto e in cui appunto raccontava di questi suoi anni berlinesi e menzionava un po' di sfuggita un testo che lei aveva scritto in questi anni questo testo si chiama in tedesco Ein Ortfurt zu Fell cioè un luogo di coincidenze in italiano pubblicato dalla casa editrice SE con il titolo luogo eventuale è introvabile praticamente infatti l'ho dovuto prestare a varie persone che ne avevano letto nel mio libro ed è un testo interessantissimo perché lì ho trovato veramente la coincidenza che mi ha convinta a seguire questa strada perché lei in questo testo che lei aveva scritto in occasione della ricezione di un premio diciamo l'equivalente un po' del premio strega tedesco il premio Büchner e lei fa questo discorso di accettazione nel 64 e in questo discorso cosa fa racconta Berlino la Berlino che stava conoscendo che lei ha conosciuto in due anni particolari della sua vita all'indomani della costruzione del muro e mentre Bachman attraversava una grande crisi personale dovuta alla fine anche insomma fra le altre cose alla fine di una sua grande storia d'amore con Max Frisch a sua volta un grande scrittore del novecento ecco lei raccontava Berlino come un paziente appena operato il testo era tutta un'allucinazione con qualcosa che riporta la terra desolata di Elliot se vogliamo questa trasfigurazione allucinatoria di una città che lei però vedeva appunto come un paziente appena operato in cui il muro era la cicatrice dei punti di sutura lasciati da questa operazione e lì ho pensato che insomma era veramente impressionante il fatto che questa sensazione che avevo sempre avuto a Berlino della storia come cicatrice trovasse una risonanza appunto fra l'altro detta molto meglio di quanto avrei potuto dire io e quindi ho scelto per questo innanzitutto io farò domande molto più terra terra di quelle di Giulio metto le mani avanti e le mie domande sono più che altro così dei piccoli sguardi dei piccoli frammenti del libro che sono anche dei piccoli frammenti di Berlino e il primo frammento era proprio Aenor Furzufelle quindi in parte già ha risposto Ilaria cioè questa espressione Aenor Furzufelle che come ha detto Ilaria è il titolo del libro ma vuol dire eccolo vuol dire anche diciamo letteralmente il luogo delle coincidenze un luogo per le coincidenze però nel libro nel libro spieghi anche che vuol dire forse un luogo per sentirsi male un luogo dove ci si sente male e come vi diceva è il titolo di questa conferenza che ha fatto anche Scalpore cioè più che di questa conferenza di questo discorso di accettazione del premio e in qualche modo per te è un po' anche una mappa di Berlino un po' una mappa del tesoro e quindi quello che ti volevo chiedere è come ha funzionato questa mappa e cosa vuol dire per te che Berlino è ai nord furtufelle cioè sia a livello di coincidenze sia a tutti gli altri significati alcuni già ce li hai detti sì grazie grazie Federica allora sì infatti scusami ho anticipato la tua domanda nell'entusiasmo però è vero questa cosa secondo me è molto interessante vabbè il tedesco è una lingua in questo molto filosofica come il greco è una lingua in cui le parole molto più che se vogliamo in italiano hanno facilità a comporsi insieme e vabbè poi ci sono queste sovrapposizioni di significati che esistono in tutte le lingue e che ci dicono molto della complessità del linguaggio del suo modo di dirci il mondo allora io ho usato questo discorso veramente come una mappa cioè anche perché dovete capire io non sapevo veramente che pesci pigliare per raccontare una città enorme come Berlino e nel contempo cercare di dare a chi leggeva il libro uno sguardo sulla vita sulla biografia ma anche proprio sulla voce di questa poetessa scrittrice così particolare e quindi ho pensato di provare a usare il suo sguardo lo sguardo che lei adottava appunto in questo piccolo testo in questo testo appunto che è stato pubblicato ma che lei aveva pronunciato in occasione del premio e fra l'altro se vi interessa su youtube potete trovare un video molto bello del telegiornale che dà questa notizia e si vede anche lei che tutta vestita precisina sembra una bambina aveva 38 anni all'epoca però sembra veramente molto molto giovane e sale sul palco con questo caschetto biondo molto tranquilla e inizia a fare questo discorso che è un discorso che lascia abbastanza sgomenti gli spettatori e quindi diciamo ho deciso di usare queste sue parole come se mi dessero una mappa immaginaria anche perché avevo molto poco tempo da passare a Berlino questo è un libro scritto durante la pandemia in una fase in cui viaggiare era anche più difficile di quanto non sia oggi solo un anno fa insomma c'erano molte più restrizioni e quindi io ho cercato di farmi condurre proprio per lasciarmi in balia delle coincidenze quindi tutti i luoghi che lei nomina nel suo testo li ho visitati e ho provato a sovrapporre ai miei occhi delle lenti fatte delle parole con cui le raccontava Bachman quindi cercando di creare un po' questa illusione per cui attraverso lo sguardo diciamo di me pellegrina in questi luoghi potevo sovrapporre il mio quello che vedevo il panorama che mi si offriva in un giorno del febbraio del 2022 perché era proprio febbraio scorso quando sono stata lì e poi ho scritto a occhi diversi che nel 63 nel 64 guardavano quelle stesse cose e questo mi ha portato appunto a esplorare tutti i significati di questo titolo che lei dà al suo discorso che è un titolo molto significativo perché appunto in tedesco cioè luogo eventuale è sicuramente una buona traduzione ma non rende tutta la vastità delle possibilità che sono anche di giochi di parole che stanno in questo titolo tedesco perché appunto è un luogo per le coincidenze ma anche un luogo dove vivere degli accessi degli attacchi di un male Zufal significa appunto accidente forse la traduzione più 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 fedele in italiano sarebbe quella di accidente grazie più che di coincidenza perché accidente è sia il caso che porta due atomi a scontrarsi a dare adito a un determinato effetto sia è l'accidente del mi prenda un accidente e così in tedesco Zufal sono questi accessi di follia che lei proprio perché questo premio era dedicato a Buechner lei riprende un testo di Buechner dedicato a sua volta al poeta Lenz e quindi al suo questo testo noto compiuto e noto anche come la passeggiata dello schizofrenico così ne parla Deleuze per esempio che è un testo in cui si parla degli accessi di follia e anche lì è Zufal l'accesso di follia quindi lei gioca sul fatto che la casualità ci porti in qualche modo ai limiti della nostra coscienza e quindi in una condizione di vulnerabilità assoluta in cui quello che ci arriva addosso è un accidente la nostra risposta al mondo è abbandonata in un certo senso al caso e può avere delle conseguenze che arrivano al mostruoso ecco quindi mi interessava proprio esplorare tutti questi lati appunto di una parola ma anche di una forma dell'esperienza che oggi ci precludiamo sempre di più in un certo senso io giravo sì con la mia mappa ideale di luoghi ma anche con Google Maps che mi dava una guida per impedirmi di perdermi lei si è persa Berlino e anche questa possibilità appunto di perdersi di solleversi nella città insomma mi interessava provare a sfiorarla attraverso le sue parole ora parto con una domanda un po' pesante dunque io mi sono fatto molto incuriosire dalla tu metti una bibliografia una piccola bibliografia in appendice al libro dove c'è fra i è una bibliografia volutamente minima non è che c'ha non ha quelle pretese enciclopediche che hanno le bibliografie accademiche grazie a Dio direi perché per chiunque debba scrivere un articolo scientifico la bibliografia è tipo l'ossessione principale almeno l'ho restata per me quindi voglio dire non so se anche per altri però è citato questo libro che è un vecchio titolo Mimesis scritto da un'importante filosofa italiana Laura Boella che si chiama Le imperdonabili e mi ha subito colpito perché metteva insieme una serie di personaggi che apparentemente sembrano non avere nulla in comune l'una con l'altra perché accanto a Ingeborg Bachman vedevo nel sottotitolo del libro i nomi di Etty Illesum Cristina Campo e Marina Zvetajeda ora che c'entrano? Sembrano espressioni di mondi profondamente distanti l'uno dall'altro tra l'altro mi risuonava in un modo molto particolare questa scelta di nomi perché ci sono incluse due delle come dire scritture che personalmente per quello che può valere mi hanno colpito e mi hanno attraversato di più in assoluto cioè quella di Etty Illesum e non ne parliamo nemmeno perché anche la fondazione Besso se ne è occupata con un recente incontro mi sembra vero Federica ma quella di Cristina Campo che è una poetessa molto particolare per le sue scelte di vita per il suo pensiero ostinatamente contrario ostinato e contrario però ha scritto alcune delle poesie secondo me più belle della lirica italiana non solo del novecento cioè quella sono pochissime le poesie di Cristina Campo ma c'è quella moriremo divisi che è di una bellezza struggente lancinante io veramente cioè non posso non citarvi questa strofa che fa dell'anima ben poco sappiamo berrà forse dai bacini dalle concave notti senza passi poserà sotto aeree piantagioni germinate dai sassi è una strofa di una classicità di una purezza che è veramente immortale però che c'entra con Ingeborg Bachman sembra non entrarci nulla da un lato abbiamo queste ispirazioni anche religiose fervide il tradizionalismo di Cristina Campo la puntigliosa opposizione antisovietica di Marina Zvetajeva il come dire l'illuminazione spirituale di Etty Illesum che fra l'altro era una delle autrici predilette di Benedetto XVI forse non tutti lo sanno però insomma è una delle cose non ovvie di Benedetto XVI di Josef Ratzinger beh quello che voglio dire è che però leggendo questo libro in effetti la chiave di lettura che accomuna queste voci mi sembra come dire che abbia qualche cosa da dirci anche rispetto a quello che dicevamo prima perché queste imperdonabili no dice Laura Boella l'imperdonabile ha infatti un tratto di assolutezza che è contrasto con la forza inesorabile e distruttiva della storia spazio di un altrove nel cuore stesso del presente imperdonabile questo è il passaggio che vorrei proporre e vivere il proprio tempo scontrandosi con il ventesimo secolo prima durante e dopo guerre rivoluzioni regimi totalitari e ricostruzioni senza adeguarsi allo spirito del tempo senza sfidarlo nelle forme prescritte dalle battaglie politiche e culturali questo secondo me è il punto fondamentale ma lasciandosene sconvolgere fino in fondo per continuare a scoprire i messaggi di colpa di decadenza di fede di cinismo di stanchezza di innocenza e di amore con cui il tempo si rivolge a ogni essere umano cioè esiste un anti-novecento punteggiato da queste figure che hanno osato affrontare ma in relazione al collettivo non soltanto all'indagine della propria stessa ma del resto lo stesso Montegne faceva questo perché le pagine di Montegne dedicate all'analisi di come deve funzionare della monarchia delle tattiche militari del retto ordinamento dello Stato tutte a partire da quello che lui esperiva forse ci siamo anche in un certo senso ti sembra una lettura che un po' parla di Ingeborg Backman in un modo sensato? Sì sicuramente è appunto il motivo per cui ho voluto mettere questo libro nella bibliografia che è una bibliografia appunto ragionata senza nessuna pretesa di essere esaustiva ma volevo che raccontasse un po' insomma il percorso che mi ha portato a scoprire a cercare a modo mio di capire di raccontare Ingeborg Backman e questo libro mi aveva colpito esattamente per le stesse ragioni che segnali tu Giulio e tra l'altro ti ringrazio di aver raccolto questo stimolo perché nessuna presentazione è stata mai colta ma è una cosa insomma secondo me abbastanza importante appunto appunto la questi imperdonabili vabbè poi l'uso di questa di questa parola per definirle è legato è radicato proprio nella poetica di Campo di Cristina Campo che usa questa parola per riferirsi a cosa da un lato c'è questa sete di assoluto che in effetti accomuna tutte queste autrici tra l'altro appunto tutte si sono confrontate in maniera diversa con dei passaggi estremamente traumatici del novecento quindi sì da un lato è un anti novecento dall'altro appunto è una reazione anche a dei fenomeni storici particolarmente ingombranti e particolarmente dolorosi per molti versi in realtà per tutte queste donne anche se appunto si tratta non sempre degli stessi episodi anche se per esempio però Bachman è figlia di un maestro di scuola che quando l'Austria viene invasa dalla Germania e l'Austria diventa nazista prende la tessera per lei questa cosa rimane come una ferita aperta cioè quella lei è la figlia di uno dei carnefici il suo grande amore uno dei suoi grandi amori quello per Paul Celan è l'amore con un figlio di perseguitati che finisce appunto per suicidarsi ossessionato da questo fantasma della deportazione a cui era in realtà sfuggito ma che rimane pesante su di lui quindi in questo senso appunto lei e Tillesum si collocano forse ai due capi di uno stesso movimento di una stessa onda storica tremenda che è quella appunto degli anni del nazismo per Bachman questa cosa effettivamente qua secondo me Boella ha proprio ragione cioè queste imperdonabili sono in un certo senso delle inattuali sono fuori dal loro tempo pur essendo costrette a starci dentro per Bachman è stata sempre una ossessione potentissima quella di fare i conti con questa eredità e con questo passato in Malina l'unico romanzo che lei ha portato a compimento ci sono delle scene oniriche bellissime e terrificanti in cui i padri portano le figlie a morire e naturalmente in questo racconto delle figlie che muoiono per mano in diretta dei padri lei sta raccontando il suo trauma quello che poi ritorna anche nella voce narrante del trentesimo anno questa raccolta di racconti che è stato il suo primo lavoro in prosa e che ha un primo racconto insomma di apertura in cui c'è il racconto di questa giovinezza in una città austriaca in questo narratore anonimo che è uomo in realtà lei dà voce a un ragazzo a un giovane uomo di trent'anni che racconta il momento in cui gli stivali dei nazisti arrivano a calpestare le strade di questo pacifico villaggio austriaco e lo racconta come il momento appunto determinante della sua infanzia della sua adolescenza della sua vita tutta un passaggio una cesura insanabile e lei dopo questo momento è stata ossessionata dall'idea appunto di trovare un modo non di restaurare una conciliazione fra le anime del popolo nel quale era cresciuta che poi in qualche modo rinnega anche appunto correndo a Roma lei dice che quando arriva a Roma scopre finalmente cosa vuol dire vivere e quindi il suo essere figlia di austriaco figlia appunto di questa carinzia anche molto cupa che lei racconta piena di sole ma allo stesso tempo di pieghe ombrose con lei tutto questo in qualche modo lo dissolve nell'area di Roma e Roma le inisce un po' questo tormento che lei ha di cercare appunto la lingua la parola fondamentale che componga la bellicosità ma soprattutto la ferocia dell'essere umano ed è una lingua impossibile da trovare probabilmente ma che lei insegue ostinatamente appunto con una ostinazione che non fa sconti a niente nessuno lei ha preso delle posizioni nella sua vita anche molto dure a un certo punto hanno la leggerezza di chiederle di partecipare a una raccolta di studi in onore dei 70 anni di Martin Heidegger mai le avessero chiesto lei si arrabbia tantissimo e ha ragione dal suo punto di vista ha proprio ragione perché dice io non lo dimentico il discorso che lui faceva il rettorato non dimentico il passaggio nazista di Heidegger e quindi si oppone a questa cosa con uno sdegno veramente furibondo oppure c'è il momento in cui cambia editore perché quello stesso il suo primo editore che l'aveva portata al successo perché lei appunto oggi la ricordiamo come una scrittrice un po' di nicchia ma ai suoi tempi aveva avuto un successo quasi da diva lei era andava in copertina sulle riviste vendeva tantissimo aveva anche questo suo fascino molto come ricordava prima Federica molto magnetico per cui lei era diventata veramente famosa e a un certo punto appunto cambia editore perché il suo editore aveva affidato a un poeta con trascorsi nel nazismo la traduzione delle poesie di Anna Akhmatova questa cosa lei non l'accetta e quindi diciamo ci sono delle asperità e delle durezze imperdonabili effettivamente ora il limite secondo me di assimilare tante figure sotto una etichetta è sempre un po' lo stesso ed è un limite che io vedo particolarmente visto che qua parliamo di cultura al femminile di tradizioni diciamo femminili nella scrittura e nella ricerca nel pensiero è sempre quello un po' di deghettizzarle ecco questo secondo me è una cosa a cui dobbiamo stare sempre molto attenti cioè assimilare le voci dicendo questa letteratura femminile e quindi rinchiuderle in un recinto secondo me può essere sempre molto pericoloso ed è una cosa a cui Bachman stessa nella sua vita si è opposta molto spesso lei ha delle posizioni anche relativamente problematiche rispetto al femminismo che ha tentato di assorbire molte volte la sua la sua voce perché in realtà proprio questa ricerca di assolutezza proprio questa cosa che viene riconosciuta bene da Boella è un po' il segno il marchio di una unicità molto cercata molto cercata anche fino allo stremo anche forse andando in direzioni che poi non erano quelle più produttive Bachman ha iniziato a scrivere un'infinità di romanzi che non ha finito lei insomma Malina doveva far parte di una tetralogia poi di una trilogia insomma lei iniziava moltissimi progetti inseguendo però proprio questa questa lingua questa purezza quindi diciamo secondo me è una è una denominazione che ci può aiutare a capire appunto dei caratteri che accomunano anche appunto autrici apparentemente lontane e è utile finché è euristica finché ci aiuta a vedere qualcosa dentro la loro opera che altrimenti ci sfuggirebbe dobbiamo sempre stare attenti almeno per come la vedo io a usare delle delle etichette e a come dire sovrapporre delle figure solo perché appartengono magari allo stesso tempo e allo stesso genere perché è una cosa che con gli uomini non si fa quasi mai ma con le donne si tende molto a fare con le donne autrici e secondo me può essere pericoloso nel senso che è una è una cosa da maneggiare insomma con cura a mio parere passiamo ora diciamo al secondo frammento di Berlino secondo frammento anche di libro nel libro di Ilaria ed è questo verbo tedesco Abspringen spero di averlo pronunciato bene che vuol dire letteralmente saltare giù però ci spiega Ilaria nel libro in realtà a Berlino assume un significato tecnico cioè sconfinare sconfinare in una direzione sola da est a ovest perché letteralmente vuol dire saltare giù dal muro quindi è una sorta di fossile nella lingua tedesca dell'esistenza del muro di Berlino e proprio su questo volevo fare la seconda domanda il muro di Berlino sapete è stato costruito nel giro di pochissime ore nell'estate nell'agosto del 1961 Ingeborg Backbahn arriva a Berlino nel 1963 quindi in una città che era stata appena traumatizzata da questo evento e quello che volevo chiedere a Ilaria è cosa ha trovato proprio a livello emotivo nella scrittura di Ingeborg Backbahn quale traccia ha trovato del trauma del muro e quali traccia ha trovato nella Berlino post-pandemica che ha visitato per la scrittura di questo libro grazie Federica beh sì effettivamente nel caso di Backbahn appunto questa questa sutura recente una sutura ma anche una cesura del muro è molto forte molto evidente nel senso che lei racconta delle cose vabbè poi ci sono vari libri su Berlino che raccontano benissimo la storia anche dell'impatto e dello shock che è stata la costruzione del muro perché è stato effettivamente qualcosa di improvviso che ha perturbato tantissimo la vita della città fra l'altro di questa città che in realtà soltanto negli anni 20 era stata riunita confederando diversi piccoli comuni piccoli cioè piccoli insomma relativamente più piccoli villaggi cittadine che erano confluite nella cosiddetta grande Berlino quindi era una città che era stata unita da poco che ha vissuto una stagione straordinaria proprio a livello di sviluppo culturale cittadino negli anni di Weimar e poi della Repubblica di Weimar uno sviluppo che è stato poi bruscamente interrotto dall'avvento dei nazisti che proprio appunto io lavorando su questi luoghi che racconta Bachman che sono dei locali notturni dei grandi magazzini poi andavo a seguire la loro storia e effettivamente è interessantissimo vedere come questi posti che avevano avuto probabilmente un afflato di incredibile modernità negli anni venti poi fossero stati chiusi o comunque oggetto di una feroce repressione negli anni del nazismo poi dopo una parziale rinascita dopo la guerra e poi arriva il muro che comunque crea una una divisione importante e per certi versi insanabile nella città sicuramente se siete stati a Berlino avrete visto insomma il museo del muro è molto impressionante ci sono le storie di chi cercava di sconfinare c'è anche quella storia insomma che mi ha colpito moltissimo alla mia prima visita e torna a colpirmi ogni volta quella di quel signore quel ragazzo anzi perché era un ragazzo di non più di vent'anni di Berlino Est che aveva trovato un modo di modificare il motore della sua macchina per ospitare un amico che aveva fatto passare dall'altra parte e che poi è un signore che ha fatto per anni la guida al museo del muro di Berlino e si vede proprio una riproduzione di questa macchina in cui lui aveva modificato il motore in modo che ci potesse stare dentro il corpo dell'amico tuttora annicchiato per passare dall'altro lato sono storie di tragedie quelle di chi saltava Abspringen questo verbo appunto che significa sconfinare appunto come ha detto benissimo Federica reca una traccia fossile di quello che è stato nel linguaggio della città perché Berlino è una città per certi versi simile a Roma anche nel senso dell'umorismo dei suoi abitanti sono due città che hanno visto succedere di tutto sono due città in cui la storia ha lasciato dei segni importantissimi e quindi hanno degli abitanti che hanno sviluppato un senso dell'umorismo anche leggermente cinico i berlinesi sono noti per questo anche i romani naturalmente questo modo quasi un po' nonchalant di affrontare il trascorrere dei secoli della storia rimanendo in qualche modo impassibili ecco questa cosa Bachman la racconta questa cosa Berlino la si rileva e naturalmente è appunto una traccia importante lei la rende drammatica nel raccontare questa cesura del muro come un'operazione chirurgica ma effettivamente per esempio quando racconta dei grandi magazzini Cadeve che sono questi grandi magazzini che erano stati creati all'inizio del novecento ed erano un po' il simbolo della Berlino Belle Epoque e erano stati creati in occasione di questa visita del re del Siamo quindi questo momento di orientalismo sfrenato prima della prima guerra mondiale quando la Germania era tutt'altra cosa da quella che poi appunto il novecento l'avrebbe trasformata in questi grandi magazzini a un certo punto quando viene costruito il muro da un giorno all'altro le commesse che abitavano a Berlino allora est non potevano più andare al lavoro c'è stato un cioè proprio a livello logistico questo tipo di considerazioni appunto mi è capitato di affrontarle mentre lavoravo sul testo di Bachman perché risale a pochissimi anni dopo la costruzione del muro quindi c'è proprio un racconto di quello che è stato lo sconcerto di fronte a questa nuova costruzione questa cosa sicuramente oggi ha cambiato forma però appunto il fatto di arrivare a Berlino in pandemia ancora in corso e quindi sono arrivata in questo nuovo aeroporto che è stato costruito durante la pandemia che ha creato tantissime polemiche perché è un aeroporto nuovo questo Berlino Brandeburgo che è stato costruito con un pare con un grande spreco di capitali e in qualche modo sembra rappresentare già un relitto almeno così l'ho visto io quando ci sono arrivata era molto vuoto era appunto ancora in una fase in cui si volava poco quindi forse c'era anche questo ma anche l'aspetto ciclopico di questo luogo che racconta appunto il tempo dei grandi viaggi low cost che forse oggi è finito ecco questa cosa mi ha messo poi nelle condizioni di fare una cosa che forse non so voi però insomma io tendo spesso a non fare cioè a chiedermi che post occupiamo noi nella storia adesso è molto difficile pensarsi dentro la storia questo è un discorso ragionamento che indirettamente si trova anche spesso nei testi di Bachman però è uno sforzo che in effetti se lo facciamo ci dice ci disorienta molto ma ci dice anche molto di quello che insomma possiamo e possiamo desiderare di voler fare ecco e quindi in questo senso raccontare Berlino e provare a situarmi nella storia così travagliata e così affascinante di questa città per me è stata un'operazione abbastanza vertiginosa che indirettamente mi ha portato a capire forse un po' meglio anche Roma che è una città che insomma amo molto ma che non è la mia città quindi che sento sempre un po' incomprensibile da cui mi sento sempre un po' respinta perché sono in fondo io sono proprio milanese io diciamo da questo tuo acquerello di Berlino ma solo per la delicatezza del tratto non perché sia meno significativo in come lo hai impostato e mi viene in mente questa idea che soprattutto abbiamo parlato di Berlino in relazione a questi sconvolgimenti storici in particolare Berlino è un po' la città simbolo dei due totalitarismi che hanno squassato il Novecento no? E Ingeborg Bachmann molto della sua storia personale ma anche molti dei suoi esiti letterari sono in relazione a questa sua memoria a questa eredità difficile che stava proprio diciamo segnava un po' il compasso della sua vocazione letteraria anche nel suo essere una delle voci della prima generazione dei tedeschi veramente cresciuti dopo il nazionalsocialismo e la Bachmann è molto critica del modo dei suoi contemporanei tedeschi di fare memoria del nazionalsocialismo sappiamo che quelli erano degli anni un po' particolari perché c'era un rimosso anche giuridico costituzionale non so se voi sapete quasi tutti sanno che la raffigurazione dei simboli nazisti non solo la ricostituzione del partito nazista in termini molto più forti e molto più attuali di quanto non sia prevista nelle disposizioni transitorie della nostra costituzione è prevista nella costituzione di Bonn e poi nella costituzione federale attualmente di Genna ma proprio la raffigurazione tant'è vero che oggi danno dei permessi speciali per mostrare le effigi naziste quando fanno qualche film però ci sono un sacco di aneddoti di produzioni hollywoodiane degli anni 60-70 di film di guerra quando mettevano queste sbastiche la popolazione locale fuggiva terrorizzata perché pensavano che fossero ritornati i nazisti insomma era un grande rimosso oppure anche un tentativo di istituzionalizzare una contrapposizione del nuovo stato tedesco soprattutto della Germania federale rispetto a quello che era il passato e Bachman è molto critica di questo modo di fare memoria del nazionalsocialismo ora io però mi chiedo visto che anche noi diversi decenni dopo abbiamo qualche problemino con la memoria dei totalitarismi nel senso che è un po' un'ombra che ci abita in un modo diverso da quello in cui ci dovrebbe abitare che cosa possiamo imparare se possiamo imparare qualcosa dalla lezione di Ingeborg Bachman nel suo rapportarsi al nazionalsocialismo beh questa è una domanda molto molto importante e insomma spero di essere all'altezza di risponderti sicuramente una cosa che diciamo è una cosa su cui ho riflettuto moltissimo anche perché appunto poco dopo che avevo finito di scrivere questo libro si è aperta in Italia la campagna elettorale e ci si è insomma questo questo rimosso ce l'abbiamo anche noi no? è diverso ci sono tante differenze se vogliamo però anche la rivendicazione che sembra sempre più politicamente accettabile una parte politica che però piano piano si fa strada anche nell'opinione pubblica del passato fascista dell'Italia è un tema molto caldo così come caldo appunto il fatto che spesso venga evocato il fantasma del fascismo del nazismo in maniera anche impropria talvolta diventa una volta un feticcio un fantoccio allo stesso tempo appunto io qualche anno fa fra l'altro avevo fatto un lavoro insomma che mi aveva molto appassionata avevo lavorato a un documentario che poi era andato al festival di Veneta la mostra del cinema di Venezia sulle leggi razziali del 38 quindi avevo insomma scartabellato nei giornali dell'epoca nelle vignette in tutta quell'immaginario facevo la ricerca delle immagini quindi cercavo proprio raffigurazioni anche di un aspetto razzista dell'Italia che fa parte di un rimosso che ogni tanto anzi troppo spesso torna a emergere e naturalmente questa elasticità forse postmoderna perché forse non è soltanto una questione politica ma una questione anche proprio culturale che oggi noi abbiamo rispetto al ripensare il passato e anche al lasciare andare alla deriva alcune parti della nostra memoria storica è una cosa che mette molto in allarme in questo senso Ingeborg Bachman naturalmente lei queste cose le ha vissute è molto più vicina cronologicamente e quindi ha forse una lucidità anche talvolta quasi esagerata quasi esacerbata dalla sua vicinanza e dalla sua esperienza appunto di figlia di quell'Austria di quell'Austria che è passata al nazismo senza senza troppa fatica ecco che è scivolata dentro quell'ideologia lei fin dagli anni del ginnasio quindi era una ragazzina si oppone si rivolta veramente con il cuore tutto a questa ideologia il suo primo amore è un soldato dell'esercito inglese che in realtà era un ragazzo austriaco di religione ebraica che era scappato in Inghilterra subito prima dell'annessione dell'Austria e che poi torna a Clagenfort dove lei è cresciuta con l'esercito di liberazione e lei diventa per il paese la traditrice lei diventa quella che va con l'ebreo lei si prende addosso proprio questa questa nomea e questa fama appunto di essere quella che fa le cose che non andrebbero fatte e la porta orgogliosamente e inflessibilmente lei è stata inflessibile rispetto a questo penso che ci dica molto il senso di offesa che lei prova che lei sente nel vedere questo passato che non viene né sepolto né del tutto elaborato ma che rimane nella forma di un rimosso proprio in un senso freudiano in Malina c'è tantissimo questa cosa ecco io penso che sarebbe molto utile molto fruttuoso provare a leggere i suoi testi per esempio appunto quella storia che evocavo del sogno di Malina del cimitero delle figlie è una cosa che secondo me ci dice tantissimo del modo in cui una persona che non ha avuto alcuna responsabilità diretta in quello che è successo ma l'ha visto succedere e l'ha visto succedere in una fase che ha sconvolto proprio tutta la sua vita perché era la fase del suo sviluppo ha una lucidità spaventosa e quasi psicoanalitica poi nel raccontarci come queste esperienze della storia di un paese rimangano iscritte in tutto quello che è il suo divenire quindi secondo me appunto una cosa che possiamo fare è leggerla e lasciarci sconvolgere da questo sguardo e poi appunto provare a essere meno superficiali forse nell'usare e nell'indagare le etichette perché è davvero molto pericoloso quello che sta succedendo secondo me è pericoloso e come dire io non penso che spesso si sente dire che la storia si ripete non so se necessariamente si ripeta sappiamo però che appunto può tornare in forma di farsa quello che la prima volta è stato tragedia ecco io starei molto attenta in questa fase storica terzo frammento da Berlino è stato un frammento che mi è piaciuto moltissimo è Speti che diciamo forse si potrebbe tradurre come Tardino ed è diciamo il diminutivo di Spetkauf che vuol dire acquisto tardivo luogo per acquisti tardivi Spet vuol dire tardi mi piace perché sono una ritardataria cronica e chi mi conosce lo sa sa che non sto scherzando ho fatto tardi anche oggi ma al di là delle battute diciamo gli Speti sono importanti nella caccia al tesoro di Ilaria a Berlino ritornano più volte e è importante proprio anche il concetto di tardi in relazione a Berlino sia perché Berlino dal racconto che ci fa Ilaria sembra essere stata per la sua intera esistenza una città di tiratardi Ilaria passa attraverso ricerca tutta una serie di locali dove si facevano le ore piccole dove c'era una vita notturna incredibile negli anni venti negli anni prima della guerra sia c'è in maniera più sottile una sensazione di tardi in tutto il libro di Ilaria descrive Berlino come un'immensa festa finita quindi ormai siamo arrivati tardi e anche in modo ancora più sottile c'è una sensazione di nostalgia per epoche mai vissute ancora una volta di essere arrivati tardi quindi volevo chiedere Ilaria spiegazioni su tutto questo ritardo grazie per questa domanda Federica ovviamente anch'io come avrà intuito probabilmente sono una persona che ha una predisposizione veramente congenita al ritardo sono pure di Milano quindi dovrei essere molto più precisa ma è impossibile e questa cosa che naturalmente in Bachman è anche abbastanza evidente perché anche lei era una ritardataria appunto anche rintracciando diverse testimonianze sulla sua vita viene fuori proprio questa cosa e questo problema di gestione del tempo è fortissimo c'è una in Malina appunto questo romanzo la pagina iniziale è tutta incentrata su quanto sia difficile dire oggi sull'impossibilità di stare dentro l'oggi questo tempo che sfugge da tutte le parti e questo presente che si sfalda ecco per me questa è una sensazione che mi è molto familiare per inclinazione per carattere per abitudini forse forse anche un po' per generazione non avrò mai la pretesa di scrivere un libro diciamo generazionale non penso che si possa parlare a nome di tutti quelli che sono nati con noi però è vero che appunto io faccio parte di una generazione quella della seconda metà degli anni Ottanta quindi nati in una fase di benessere anche espansivo arrivati ai nostri vent'anni proprio sull'onda della crisi del 2008 e con questa sensazione che sia un po' tardi per tante cose e Berlino per come l'abbiamo vissuta insomma noi di questa generazione secondo me fa parte in maniera molto molto decisa di questo senso di essere in ritardo su cosa sul novecento sul tardo novecento su quel momento appunto di possibilità e di possibile composizione di una serie di conflitti che poi in realtà sono sfociati in altre forme più sottili e forse anche più insidiose di conflitto e di ingiustizia sociale ecco questa cosa Berlino secondo me è molto evidente cioè questa sensazione di festa finita è molto chiara anche questa idea appunto che il tirar tardi che è una costante della città in effetti appunto mi ha appassionato molto fare questa specie di viaggio di ricognizione dei locali notturni della loro storia appunto attraverso gli anni in cui però ferveva una idea è una è un'immagine di futuro anche perché si veniva dalla prima guerra mondiale ora poi è ovviamente un'idea di futuro che ha portato diciamo dalla padella alla braccia se vogliamo quindi non è che è stato però appunto a livello artistico una forma di creatività molto effervescente si lega appunto alla vita notturna di questa città che è una città dove non si dorme mai questo veniva proprio definita così da moltissimi autori personaggi insomma famosi che hanno che hanno scritto e che l'hanno attraversata la stessa Bachman la vede questa cosa della città dove non si dorme mai quindi il fatto che esistano questi negozietti che sono aperti poi tutta la notte che si chiamano appunto spetti e spetti vuol dire tardi in tedesco quindi appunto sono questi posti dove tu puoi andare a comprare le cose a qualsiasi ora del giorno della notte mi sembrava un'immagine abbastanza significativa di questo tipo di vita detto questo appunto ho cercato anche un po' di riflettere su un'idea di divertimento di tirar tardi e anche di deboscio se vogliamo di solutezza che appartiene appunto alle generazioni che sono venute dopo la caduta del muro e che vedono appunto in questa città in cui si tira tardi che cosa una possibilità di inseguire un fantasma forse di un divertimento un po' fine a se stesso questa cosa mi colpiva molto appunto osservando anche le metamorfosi del turismo a Berlino insomma una cosa di cui ho parlato con diversi amici che abitano là e che mi hanno raccontato appunto di come hanno visto cambiare in una direzione sempre più consumistica la tipologia del turista e dell'esperienza che si fa a Berlino una forma sempre più stereotipata quella che si chiama la gentrificazione che interessa tantissime città interessa è interessato moltissimo anche Berlino anche in questo senso anche nel trasformare questa città che di notte era effervescente di vitalità e di creatività in un'esperienza sempre più standardizzata ovviamente non vorrei generalizzare però è una tendenza che comunque si rileva che ha tante ripercussioni dal mercato immobiliare appunto alle metamorfosi proprio della geografia della città le città cambiano a seconda dell'uso che se ne fa ecco del modo in cui sono abitate e a Berlino sta succedendo anche questo quindi mi premeva a riflettere su questo vabbè senza contare il fatto che sono una persona molto nostalgica di carattere e quindi insomma veniva fuori forse anche un po' questo aspetto però Berlino è una città dove è facile essere nostalgici perché il passato sembra veramente a portata di mano cioè sembra potersi animare dietro ogni oggetto su cui si posa lo sguardo mi piace molto questo fatto che personalmente considero un indice a livello proprio mio soggettivo di riuscita della cosa che stiamo facendo che stiamo saltando in modo molto fluido e sempre molto centrato scusate chi si loda si sbroda insomma fra lo sguardo individuale e problematiche che attengono un po' al collettivo sia l'idea della città sia l'idea della generazione sia l'idea dello sguardo che si ha sulle problematiche storiche politiche che in qualche modo e quindi stiamo un po' dando ragione di quella intuizione originaria su Ingeborg Backman e in questo ritornerei a una cosa che sempre nelle mie letturine mi ha colpito molto cioè io non avevo idea prima di prendere in mano l'ultimo libro scritto da un grande filosofo italiano veramente grande Giorgio Agamben che è un libretto edito da Inaudi da pochissimo si chiama Quel che ho visto udito e appreso ora questo titolo è volutamente una citazione di Ingeborg Backman perché negli anni 60 dopo un po' di tempo che si era trasferita a Roma Ingeborg Backman scrisse un libretto che si chiama Quel che ho visto e udito a Roma il curatore di questo libro era un giovane Giorgio Agamben che infatti è stato grande amico di Ingeborg Backman e in questo libro che è diciamo quasi una raccolta di nostalgiche effemeridi sapienziali vorrei dire no la cita espressamente fra le sue influenze quindi fra quel che lui ha visto udito e appreso nella sua vita c'è anche quel che lui ha appreso da Ingeborg che è proprio Ingeborg Backman ve lo leggo da Ingeborg ho appreso che la città in cui viviamo parlavamo dei significati di Berlino è come una lingua col suo antichissimo centro armonioso e intorno e più in là le pompe di benzina gli svincoli le orride periferie e che dobbiamo rassegnarci alle sue brutture così come accettiamo la cattiva lingua che ci circonda per trovare forse un giorno la città perfetta la lingua che non ha mai ancora regnato e per questo non possiamo sapere proprio perché viviamo in quel posto e perché parliamo proprio quella lingua è chiarissimo questo riferimento al fatto che Ingeborg Backman stesse a Roma e quindi a questo significato del fatto che lei che non era affatto diciamo di estrazione latina fosse poi però la cosa che invece mi colpisce è che questo frammento che in realtà è un po' è un po' ermetico perché in effetti parla della lingua parla della polis sembra evocare qualcosa degli assi fondamentali del pensiero di Agamben però poi secondo me è molto benicheggiato da una cosa successiva quasi si parla con questo frammento che cosa ho appreso dalla poesia che un compito e un'intensità politica possono essere veicolati unicamente attraverso la lingua e sembra banale però attenzione è che questo compito benché sia eminentemente comune nessuno può assegnarlo ma è assunto dal poeta in luogo di un popolo assente e che non vi è oggi altra possibile politica che questa perché solo attraverso l'intensificazione poetica della lingua il popolo assente per un istante appare e soccorre ora se noi pensiamo alla nascita della poesia lirica che nelle nostre diciamo così semplificazioni di studenti annettiamo alla espressione dell'individuo in quanto tale in realtà la poesia lirica nasce come espressione per eccellenza della collettività organizzata della polis perché è la poesia greca che è fatta per parlare ad un pubblico che condivide un ethos una prospettiva e non solo perché è morto Mirsilo ma anche quando Saffo si rivolge alle sue compagne e così via l'encanto allora questa cosa assume un significato veramente quello è un popolo assente perché è assente perché è svanito nella storia il nostro è un popolo assente perché non riesce a tessere una nuova esperienza politica e però il poeta con il suo uso della lingua in qualche modo riesce a renderlo per un attimo popolo ora quello che io chiedo rispetto a questo nella tua lettura di Ingeborg Bachman secondo te la scrittura di Ingeborg Bachman è una scrittura politica e che bisogno c'è oggi di una scrittura politica se nel senso in cui può esserlo quella di Ingeborg Bachman in altri sensi se ce n'è bisogno tu che apparentemente non sei una scrittrice politica che ne pensi? questa è una domanda molto importante anche qua è molto difficile è vero appunto il saggio di Bachman su Roma si trova pubblicato con la prefazione di Agamben da Quodlibet è molto bello quel che hai visto l'edito a Roma e questo saggio breve saggio in cui lui la cita molto anche la tematica insomma anche questa citazione che tu hai letto è profondamente Bachmaniana allora secondo me la questione qui insomma è molto complessa provo ad abbozzare una risposta ma è una cosa su cui io mi interrogo molto spesso nel senso è vero io non amo la figura del poeta Avate del poeta maestro dello scrittore maestro di chi si mette diciamo nella posizione di mostrare una strada appunto anche a livello politico di dare delle direttive su come pensare e comportarsi sì l'impegno secondo me può avere molte molte forme ma quella appunto più paludata che in Italia comunque ha una tradizione nobile è anche una grande fortuna per me non appartiene del tutto alla mia sensibilità proprio perché io appunto sono una ho una formazione se vogliamo montegnana nel senso mi sento più che altro una scettica e in questo senso così per quanto trovi che sia importantissimo come dire avere una coscienza civile e prestare il proprio lavoro anche appunto anche mettendosi in discussione anche mettendo in discussione quello che agli occhi di tutti appare limpido ecco per quanto sia importante impegnarsi e come dire non aver paura di esporsi un conto è esporsi nel senso appunto del voler fare delle proprie parole un manifesto questa è una questione di mia sensibilità tutto questo è contraddetto esplicitamente da Bachman che invece appunto lavora moltissimo questa idea della lingua poetica da forgiare il problema è che tutte queste teorizzazioni appunto sulla lingua poetica in realtà io penso che per lingua si intenda qualcosa di molto simile al greco logos cioè qualcosa che allo stesso tempo è ragionamento e discorso e allora in questo senso mi ci ritrovo in questo senso mi ci ritrovo perché nel momento in cui il discorso la lingua e la parola si fanno ragionamento e quindi devono acquisire un certo tipo di limpidezza non per essere appunto un decalogo da seguire appunto da seguire per chi poi appunto si affaccia a quella lettura poetica ma per tracciare un solco di critica di ragionamento allora quello secondo me è efficace ed è importante nel momento in cui diventa prescrittivo io appunto da studentessa e studiosa di filosofia da studiosa di Spinoza e di Montaigne non mi ci ritrovo perché ritrovo appunto penso che nella prescrizione per quanto possa essere etica per quanto possa essere profonda c'è sempre un lato acritico e in effetti Bachman per quanto lei appunto si dedichi proprio a livello teorico moltissimo questa idea di costruire un discorso logico che porti su di sé una coscienza politica poi i momenti in cui questa cosa riesce a farla sono quelli invece più autenticamente poetici e più autenticamente intrisi di sofferenza penso appunto non soltanto a Malina ma anche alcune sue poesie per esempio questa ultima poesia che lei ha scritto La Bohemia sul mare che è una poesia profondamente politica ma non vuole essere un manifesto non vuole dare istruzioni su come comportarsi ecco allora io diciamo su questo tema è un tema su cui rifletto molto e sicuramente la mia posizione cambierà sento che sta maturando anche rispetto a quello che succede a livello politico quello che sta succedendo al fatto che penso che appunto forse alcune posture che mi potevo permettere fino a qualche tempo fa oggi forse non me le posso permettere più quindi è un pensiero in trasformazione il mio rispetto a questo però quello che penso è che una persona che scrive una persona che appunto si dedica che scrive o che pensa o che scrive di quello che pensa insomma quindi una persona che si occupa di letteratura o di filosofia ma anche di qualsiasi disciplina umanistica e non solo abbia innanzitutto la responsabilità appunto di farsi portatrice con le sue parole e anche con quella forma di vulnerabilità che dalle parole salta fuori che emerge che viene esplorata che è quella che appunto Bachman ha esplorato in lungo e in largo anche malgrado forse la sua la sua volontà politica di costruire questa lingua poi si sia rivelata impossibile ecco sia qualcosa che trova le sue radici molto più nella sensibilità più profonda molto più nella apertura veramente vulnerabile a quello che ci fa soffrire del mondo piuttosto che all'essere programmatici e al proporre cosa fare questo è un po' il punto in cui sono adesso però non so diciamo che si parte da un punto imprescindibile cioè non possiamo più permetterci una poesia che non parli di niente e in questo senso c'è quella bellissima poesia divertente di Guglielmo d'Aquitania trovatore Guglielmo d'Aquitania che a un certo punto dice ho fatto dei versi farò dei versi che non parleranno né d'amore né di guerra né di amicizia né di perché li ho scritti mentre dormivo a cavallo non si possono scrivere le poesie mentre si dorme a cavallo bisogna parlare di qualcosa e questo Ingeborg Bachman una ricerca di una poesia che parli effettivamente della realtà è molto presente Penso che sia arrivato il momento di fare l'ultima domanda a Ilaria e l'ultima domanda è su un po' il tesoro alla fine della caccia al tesoro cioè ha seguito il discorso di Ingeborg attraverso Berlino passando attraverso locali notturni quartieri lussuosi quartieri meno lussuosi in questo breve arco di tempo ha attraversato tante esperienze diverse ma alla fine sembra aver trovato qualcosa qualcosa che definisce così nel suo libro una fiducia nella letteratura come mezzo di trasmissione di uno sguardo di una comprensione reciproca che annulli i dolori dell'oggi voglio chiedere a Ilaria di spiegarci questa espressione come si ricollega alla sua lettura di Ingeborg Bachmann grazie grazie Federica beh in effetti diciamo è un po' quello che stavo cercando di dire rispondendo alla domanda di Giulio cioè il fatto che la letteratura sia un luogo in cui si crea una possibilità empatica di comprensione anche di chi è lontano anche di chi vediamo solo per straniamento attraverso appunto la prospettiva straniante appunto disorientante della finizione letteraria della lingua con tutte le sue asperità e i suoi difetti i suoi inciampi e che però appunto ci dia questa possibilità di evocazione ecco forse in questo senso c'è una vocazione anche civile di quello che è la letteratura e in effetti lavorare su una figura così persa e anche ora a me non piace per niente immaginare Ingeborg Bachmann o qualsiasi persona che sia vissuta e abbia lasciato una traccia di sé del suo pensiero come una vittima principalmente penso che ci sia in questo una forzatura che non rende giustizia al coraggio e anche all'intensità con cui lei appunto ha vissuto la sua vita attraversando anche grandi dolori ma appunto soprattutto distillandone questi scritti molto belli però effettivamente lei è stata in parte vittima di una serie di di rapporti di forza che l'hanno in qualche modo schiacciata da storie d'amore che hanno preso hanno virato su una prepotenza molto molto forte a una idea di sé nella storia che naturalmente ha risentito del grandissimo trauma storico di quello che l'Austria ha vissuto e che suo padre la sua famiglia hanno vissuto e senza contare poi la questione delle cure psichiatriche perché lei quando inizia a soffrire di esaurimenti nervosi viene curata con questi farmaci molto pesanti che tendono a sedarle da cui sviluppa una dipendenza fino alla sua morte la sua morte per fuoco questa sigaretta che dà fuoco alla vestaglia ecco qui è lei che non se ne accorge perché è intontita appunto da questi barbiturici quindi diciamo è una figura di una donna che ha molto sofferto e ha sofferto anche appunto di rapporti di forza squilibrati per me lavorare su di lei e sentirla insomma dalla distanza di questi 50 anni che sono intercorsi fra la sua morte e il momento in cui io mi sono messa a cercarla ha significato anche trovare provare a trovare un modo di non dico di renderle giustizia non c'è certo bisogno di me per questo però di colmare proprio con con l'empatia con la consonanza del sentire questa distanza e provare a dare una voce laddove questa voce è stata messa a tacere ecco in questo senso penso che la letteratura ci offra delle in questo senso sì la lingua poetica è una lingua politica perché ci offre la possibilità di dare voce a chi una voce non l'ha avuta o non l'ha a chi è debole a chi non è capito a chi non si è fatto capire ecco questa cosa secondo me è importantissima ed è stato un po' anche in maniera abbastanza dolorosa andare a cercarla per le sue case di Berlino e non trovare nessun ricordo del suo passaggio lì è stato anche un po' il segno dell'importanza di un lavoro del genere fatto oggi quando sembrerebbe superfluo invece non lo è a questo punto ringraziamo Ilaria per il viaggio che ci ha fatto fare in questo cuore pulsante d'Europa che è Berlino per averci portato in visita Ingeborg Backman e ringraziamo Giulio di averci portato in visita Ilaria grazie a tutti di essere intervenuti se siete interessati martedì prossimo si terrà la presentazione il volume farò e capirò di Franca Cohen un libro su tema ebraico sarà presentato dalla professoressa Caffiero grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti